Può essere a giusta ragione considerato un upgrade lo sviluppo naturale del progetto di rilancio della movita salernitana che vive da tempo una fase di stanca. Sull'onda lunga dell'iniziativa Salerno Suona proposta dal comune di Salerno anche al fine di addolcire e in qualche modo motivare la decisione di prolungare l'orario di musica live all'esterno dei locali, l'associazione dei progetti di concerto con l'assessorato alle attività produttive della comune capologo ha promosso una manifestazione musicale che si svolgerà a partire da giovedì o dopo domani dalle 21.30 fino alla mezzanotte presso alcuni locali del centro città. La manifestazione musicale denominata Salerno Live, hashtag Salerno Suona, si terrà tutti i giovedì e contemplerà una serie di concerti, uno per ogni locale aderente al progetto. Guardi, questa nuova ordinanza è partita già da qualche mese e ci sono segnali di musica in vari club della città tra cui anche al centro storico e devo dire che non stanno portando sconvolgimenti, l'importante è che le persone sanno l'orario in cui inizia uno spettacolo musicale e altro. Poi Salerno da questo punto di vista, voi mi insegnate, perché alcuni di voi ci vediamo anche in alcuni club cittadini, ha un filone di strumentisti, di jazz, di blues che sono invidiati un po' in tutto il mondo e portare questa musica e tutti i generi musicali, perché tutte arte e fare rete, mi sembra una proposta intelligente e che va nella direzione, e ringrazio voglio dire, di Ardo Progetti, l'ha lodato, che ha preso spunto da questa mia voler alzare l'asticella culturale della città con l'hastag Salerno Suona. È la prima volta che i gestori dei locali salernitani decidono così di fare squadra affidandosi ad un itinerario musicale per riportare la musica live nella movida, ma anche e soprattutto per alzare la qualità della proposta culturale in città e dare così spazio alla creatività degli artisti salernitani, in modo particolare i musicisti salernitani. L'obiettivo dell'Associazione Culturale dei Alt Progetti è quello di incentivare lo sviluppo del patrimonio culturale e commerciale della città di Salerno, incoraggiando operazioni di animazione culturale finalizzate alla rivitalizzazione della città. In parallelo all'iniziativa culturale, all'iniziativa musicale, ci sarà da parte dell'amministrazione comunale anche una maggiore attenzione proprio nei giorni dedicati all'iniziativa, il giovedì, per quanto riguarda i controlli, personale, vigili urbani, maggior numero in strada. Lei ha detto una cosa giusta, sapendo anche che il giovedì si fa questa iniziativa, già sappiamo, voglio dire, di avere delle pattuglie che devono far sì che gli orari siano rispettati. È una questione solo di orari ed è giusto perché noi diciamo sempre che da una parte ci deve essere l'equilibrio e quindi il rispetto della tranquillità dei residenti, ma dall'altra parte non dobbiamo limonizzare la buona musica, la musica live è arte e cultura e libertà di espressione.